ciao a tutti amici di youtube e buona domenica rieccoci qui con il nostro appuntamento discover messina si si li ricorda oggi andremo a ricordare la domenica primo marzo 2020 che ci ha visti i protagonisti della visita al castello di calatabbiano e del parco archeologico di giardini naxos era una giornata primaverile siamo rimasti affascinati dal raggiungere il castello attraverso il suo ascensore panoramico per poi continuare la nostra visita nel parco archeologico di giardini naxos riscoprendo le rovine di quella che è stata la prima colonia greca in sicilia prima di lasciarvi alla visione del video vi ricordo di iscrivervi al nostro canale youtube l'iscrizione è gratuita e basta premere il pulsantino iscriviti che trovate sotto il video attivando la campanella inoltre rimanete aggiornati su tutti i video che pubblichiamo buona visione e a presto 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.